Un ponte per annullare le differenze culturali e geografiche che dividono l'Italia dalla Russia e mettere a sistema le affinità di conoscenze e tecnologie nei settori farmaceutico, chimico e alimentare. Così il presidente del Polo di Innovazione, chimico-farmaceutico abruzzese, Capitank Enrico Giacquinto, ha presentato il primo congresso internazionale italo-russo. L'obiettivo di questa iniziativa è confrontarsi su un modello di interazione tra industria, università e governo. È il modello a tripla elica che fa leva sulle conoscenze per creare applicazioni e sviluppo economico. Questo è un modello che stiamo sviluppando in Capitank e in Abruzzo come realtà geografica e ci stiamo confrontando in questo momento a livello internazionale. Esiste qualcosa di simile in Russia e quindi nell'applicazione farmaceutica e alimentare ci confronteremo su come i due modelli, il modello abruzzese e il modello russo, possano creare della cross-fertilization, cioè delle best practices sia da esportare che da importare rispetto ai loro meccanismi di funzionamento. Il network Capitank è costituito da 42 soci tra aziende, istituti di ricerca e università che operano con il comune intento di valorizzare le eccellenze della regione Abruzzo in questo comparto. Da un punto di vista di obiettivi e dell'incontro sono duplici. Il primo è condividere i propri meccanismi di funzionamento e cercare degli spunti di miglioramento nel funzionamento dell'altro. E l'altro invece, almeno sicuramente per noi come realtà regionale, è iniziare ad affacciarsi a livello internazionale. Le nostre conoscenze battono su campi scientifici che sono globali e quindi per noi è importante creare e trovare un network che abbia conoscenze utilizzabili ma che si allarghi rispetto alla realtà regionale o nazionale.